Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 484.6 La parabola della melogranata. Guardate questo frutto. Voi ne conoscete il sapore, oltre che la bellezza. Chiuso come è, già vi promette il succo dolce del suo interno. Aperto, rallegra anche la vista, con le sue file serrate di acini, simili a tanti rubini chiusi in un forziere. Ma guai all'incauto che lo morde, senza averlo privato delle separazioni amarissime, poste fra famiglia e famiglia di acini. Si intossicherebbe le labbra e le viscere, e respingerebbe il frutto dicendo, è veleno. Ugualmente, le separazioni e gli odi fra popolo e popolo, tribù e tribù, fanno veleno ciò che era stato creato per essere dolcezza. Sono inutili, non fanno, come in questo frutto, che creare dei limiti che levano spazio e danno compressione e dolore. Sono amari a chi li addenta, ossia a chi morde il vicino che non ama, per dargli offesa e dolore. Danno un'amarezza che avvelena lo spirito. Sono incancellabili? No. La buona volontà le annulla così come anche la mano di un fanciullo leva queste pareti di amarezza, nel dolce frutto che il Creatore fece, per delizia dei Suoi figli. Spiegazione E la buona volontà l'ha per primo fra tutti lo stesso unico Signore, che è Dio dei Giudei come dei Galilei, e dei Samaritani come dei Batanei. E lo dimostra mandando l'unico Salvatore, che salverà questi e quelli, senza chiedere altro che la fede nella sua natura e dottrina. Il mio comandamento è questo, che gli uomini si amino da fratelli quali sono. Si amino come il Padre dei Cieli li ama, e come li ama il Figlio dell'uomo, che per la natura umana che ha assunta, si sente fratello degli uomini, e che per la sua paternità si sa padrone di vincere il male con tutte le sue conseguenze. Avete detto, è nostra legge non tradire. Allora, per prima cosa, non tradite le vostre anime, privandole del cielo. Amatevi gli uni gli altri, amatevi in me, e la pace verrà agli spiriti degli uomini, come è stato promesso. E verrà il Regno di Dio, che è il Regno di pace e di amore per tutti coloro che hanno retta volontà di servire il Signore Dio loro.